Gli occhiali scuri. Nascondere. Figura deliberativa. Il soggetto amoroso si domanda non già se egli deve dichiarare all'essere amato il suo amore. Non è una figura della confessione, ma in che misura deve nascondergli i turbamenti, le turbolenze della sua passione, i suoi desideri, le sue angustie, in poche parole, i suoi eccessi. Nel linguaggio raciniano, il suo furore. Partito per le vacanze, senza di me, dal giorno della sua partenza, X non mi ha più dato alcun segno di vita. Indecente, sciopero delle poste, indifferenza, tattica a distanza, esercizio di un voler vivere temporaneo. Egli è frastornato dalla sua gioventù. Non sente niente. O semplice innocenza. La cosa mi angoscia sempre di più. Passo attraverso tutti i quadri della scenografia dell'attesa, Madame de Sevigny. Ma quando, in un modo o nell'altro, X si farà vivo, dal momento che non può non farlo, e che dovrebbe immediatamente vanificare la mia angoscia, che cosa gli dirò? Dovrò nascondergli il mio turbamento, ormai passato? Come va? Farlo esplodere aggressivamente? E mica bello? Avresti almeno potuto? O compassione? Non sai in che agitazione mi hai messo? Oppure lasciare filtrare questo turbamento delicatamente, leggermente, per renderlo manifesto senza farlo pesare all'altro? Era un po' il pensiero. A questo punto sono colto da una seconda angoscia, quella di dover decidere quale grado di pubblicità dovrò dare alla mia prima angoscia. Sono coinvolto in un doppio discorso da cui non posso uscire. Da una parte mi dico, e se l'altro, per qualche particolare disposizione della sua struttura, avesse bisogno della mia domanda? Non potrebbe allora giustificarsi il mio abbandono all'espressione letterale, al dire lirico della mia passione? L'eccesso, la follia, non sono forse la mia verità, la mia forza? E se questa verità, se questa forza, riuscisse alla lunga ad impressionare? Ma, d'altra parte, mi dico, i segni di questa passione rischiano di soffocare l'altro? Non sarebbe perciò meglio, proprio perché lo amo, nascondegli quanto lo amo? Vedo l'altro con occhio sdoppiato. Ora lo vedo come un oggetto, ora come un soggetto. Esito fra la tirannia e l'oblazione. In tal modo finisco col fare a me stesso un ricatto. Se amo l'altro, sono tenuto a volere il suo bene, ma in questo caso non posso che farmi del male. Tranello, io sono condannato a essere o un santo o un mostro. Essere un santo? Non posso. Ed essere un mostro? Non voglio. Dunque, terci verso. Do a vedere solo un po' della mia passione. Imporre alla mia passione la maschera della discrezione, dell'impassibilità. Si tratta di un valore propriamente eroico. È indegna di un'anima nobile spargere intorno a sé le angosce che lo tormentano. Clotilde di Boe. Il capitano Paz, eroe di Balzac, si inventa una falsa amante per essere sicuro di celare ermeticamente alla donna del suo migliore amico che gli lama alla follia. E tuttavia, nascondere totalmente una passione, o anzi semplicemente il suo eccesso, è inconcepibile. Non tanto perché il soggetto umano è troppo debole, ma perché nella sua essenza la passione è fatta per essere vista. Bisogna che il nascondere si veda. Sappiate che io sto nascondendovi qualcosa. Questo è il paradosso attivo che devo risolvere. Bisogna che insieme la cosa si sappia e non si sappia. Che si sappia che non voglio darlo a vedere. Ecco il messaggio che rivolgo all'altro. Descartes. L'Arvatus Prodeo. Cammino con il dito puntato sulla maschera. Metto una maschera sulla mia passione, ma con un dito discreto e scaltro indico questa maschera. Ogni passione ha alla fine il suo spettatore. In punto di morte, il capitano Paz non può fare a meno di scrivere alla donna che ha amato in silenzio. Non c'è oblozione amorosa senza teatro finale. Il segno è sempre vincitore. Supponiamo che, a causa di qualche incidente di cui l'altro non si è nemmeno reso conto, io abbia pianto. Piangere fa parte della normale attività del corpo amoroso e che, per fare in modo che la cosa non si veda, io metta un paio di occhiali scuri sui miei occhi gonfi. Bell'esempio di negazione. Oscurarsi la vista per non essere veduto. Lo scopo di questo gesto è calcolato. Io voglio mantenere il beneficio morale dello stoicismo, della dignità. Mi prendo per Clotilde de Voix. E al tempo stesso, contradditoriamente, provocare la tenera domanda. Ma che cos'hai? Voglio fare compassione e al tempo stesso destare ammirazione. Voglio essere bambino e adulto nello stesso momento. Ciò facendo io non gioco, bensì rischio. Già che può sempre darsi che l'altro non si chieda affatto la ragione di quegli occhiali mai visti e che, nel mio gesto, non scorga alcun segno. Affinché con mano leggera si senta che sto soffrendo, per nascondere senza mentire, io mi valgo di una preterizione ritorta. Divido l'economia dei miei segni. I segni verbali avranno il compito di tacere, di mascherare, di imbrogliare le cose. Io non renderò mai conto verbalmente degli eccessi del mio sentimento. Non avendo mai detto niente degli sconvolgimenti che questa angoscia ha causato, quando essa sarà passata, mi potrà sempre rincuorare il fatto che nessuno ne è venuto a conoscenza. Potenza del linguaggio. Con il mio linguaggio io posso fare tutto, anche e soprattutto non dire niente. Io posso fare tutto con il mio linguaggio, ma non con il mio corpo. Ciò che riesco a nascondere con il mio linguaggio, il mio corpo lo dice. Posso modellare a mio piacimento il mio messaggio, ma non la mia voce. Qualunque cosa essa dica, dalla mia voce, l'altro si accorgerà che ho qualcosa. Sono bugiardo, per preterizione, ma non so recitare. Il mio corpo è un bambino cocciuto. Il mio linguaggio è un adulto molto evoluto. Sicché una lunga serie di sforzi verbali, le mie gentilezze potranno tutta un tratto esplodere in una rivoluzione generalizzata. Una crisi di pianto, per esempio, davanti agli occhi esterefatti dell'altro. Vanificherà, con un suo colpo, gli sforzi e gli effetti di un linguaggio troppo a lungo calibrato. Esplodo! Conoscerai al fine Fedra e tutto il suo furore. Rasì. E la notte rischiarava la notte.